Livello finale? Non mi ricordo Sì, livello finale di questa zona La bambolina Mi sa che gli devo sputare per prenderla Ah, Kuzco Ciao Isma No, tutto a posto Ah, sì Che c'entrano i lumaconi? Ho lo sputo del demone Oh no Non mi ricordo questa fase, sincero Aspetta Ha detto porca maiala Scusami Eh, non riesco a prenderlo Aia Ok, magari me ne occupo dopo Ma ha detto porca maiala Sono abbastanza sicuro Sono abbastanza sicuro di aver sentito porca maiala io Non vorrei dirlo Guardala là, guardala che continua a correre Dove... scusami Come si prendeva quella bambola? Non mi ricordo Forse devo sputare addosso a Isma Ah, dovevo continuare a... Ok Dovevo continuare a lanciare i palloncini Ah Fatto? Ho bisogno di aiuto, Crank No Quanto è brutta Lei tornerà Ho letto il copione Oh no Ho letto il copione Questa cosa della quarta parete è geniale È bellissima tra l'altro Allora Andiamo a prendere tutte le monete piano piano Visto che la retromarcia è molto lenta Qua non c'è nulla Giusto? Sì Quindi Ecco, fatto Saranno 15 monete in tutto Sì No, forse 20 Aspetta 16 Qualcuno ha un bicchiere d'acqua? No Mmm Mi sa che erano 20... Ah no, ok, perfetto Stavo dicendo Mi sa che erano 20 E non mancate qualcuno indietro No Ah, vaffanculo Eh, vabbè Ho mancato due monete Bastava che stavo al centro Bastava che stavo al centro E con questo Anche il fiume è a posto Quindi erano 4 capitoli del fiume Il prossimo della giungla di giorno Saranno 3 capitoli Visto che è divisa così la montagna Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.